I primissimi furono Gregory Peck e Audrey Hepburn in vacanze romane a spasso per le strade di Roma capitale sulle due ruote simbolo dell'Italia degli anni 60. Poi i protagonisti della dolce vita di Federico Fellini fino a Sapore di mare dei fratelli Vanzina e il manuale d'amore di Carlo Verdone. La Vespa, simbolo del boom economico dell'Italia da sempre, è stata simbolo del bel paese e della vita spensierata. Da quel raduno di Vespe che si svolse 60 anni fa, oggi il Vespa Club d'Italia ha organizzato un'altra giornata dedicata al piccolo gioiello della piaggio. Un'iniziativa questa di oggi in programma per domenica 15 maggio. È una giornata promossa dal Vespa Club d'Italia, ha promosso questa rievocazione storica in tutta Italia, una manifestazione che celebrava appunto la nascita della Vespa 60 anni fa si è fatta. Il Vespa Club di Campobasso ha organizzato la giornata di domenica come un momento all'insegna del divertimento e dello spirito d'avventura, ma anche sotto il segno della solidarietà e della beneficenza, perché il ricavato dell'evento sarà devoluto all'Anfas Molise, un'associazione che si occupa di disabilità mentali. Questa festa che è statica si svolgerà in piazza Municipio dalle 9 alle 16 e 30, saremo, voglio dire, contestualmente tutti vestiti con abbigliamento tipico degli anni 60-80. E ci diretteremo nella giornata con giochi tipici, tiro alla fune, gara di lentezza, oltre a visita guidata nel centro storico della città. Se la Vespa compie 70 anni, un altro compleanno da festeggiare è quello dell'Automobile Club di Campobasso, che per le sue 90 primavere affiancherà gli amatori della Vespa per un momento di festa e di passione condivisa. Ci fa piacere abbinare questa festa, questa nostra festa dei 90 anni dell'Automobile Club Campobasso con il settantesimo anniversario, perché stiamo cercando di valorizzare il più possibile anche tutto il patrimonio storico-culturale dei veicoli, quindi sia delle autovetture che anche delle moto, che abbiamo in Italia. L'appuntamento è fisato per domenica 15 maggio in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso a partire dalle 9.